Siamo a Liaga di Piraino con l'assessore Enzo Princiotta per cercare di chiarire degli aspetti riguardanti la riqualificazione della piazza Arena del Sole. Allora la piazza è stato smontata, il campetto di calcio esistente ed è stata riqualificata all'aria. Nello stesso progetto però era previsto la realizzazione di un altro campetto in un altro posto. Allora il campetto ancora non è stato realizzato. Come mai non è stata data la priorità al campetto per cercare di dare ai ragazzi di Liaga l'opportunità di avere un luogo di svago? Sì, noi dovevamo smontare il campetto perché il campetto non era più agibile. In sicurezza tant'è che avevamo una relazione da parte dell'ufficio tecnico che diceva che era pericoloso, tant'è che l'abbiamo dovuto recintare con nastro rosso e bianco proprio perché non era e c'era anche pericolo perché andava a giocare. L'abbiamo smontato e abbiamo ovviamente dopo lo smontaggio non potevamo lasciare il suolo, praticamente la superficie così e quindi abbiamo fatto la riqualificazione. La riqualificazione che si può vedere che è una cosa che è venuta carina. Per quanto riguarda invece il campo di calcetto ci sono i lavori in corsi per l'ultima riqualificazione che sarà fatta entro la fine del mese perché contrattualmente è stato stabilito questo. Mi preme di aggiungere che su queste opere, che sono opere pubbliche, di utilizzo pubblico e quindi di tutti i cittadini di Piraino e anche non di Piraino, il comune di Piraino non ha speso un soldo. Ecco perché c'era una convenzione con un privato. Sì, abbiamo noi attuato quello che la normativa più moderna e avanzata ci mette a disposizione, normativa europea, normativa italiana prevista dall'articolo 118 della Costituzione e dalla normativa regionale e questo ci consente di poter fare effettuare delle opere con una convenzione, con un accordo con i privati, con tutti i privati, con tutti quelli ovviamente che sono disponibili a farlo per la realizzazione di opere pubbliche. Quindi un soldo né per oggi né per domani noi abbiamo speso, il comune di Piraino ha speso, per opere che verosimilmente, visto che nel corso dei lavori sono state realizzate in più rispetto a quelli previsti, migliorativi e quantitativamente maggiori, si aggireranno al di sopra dei 100.000 euro. Ecco, parlavamo del campetto che sono iniziati già i lavori e verrà, diciamo, fatto all'interno del plesso scolastico? Sì, più che all'interno del plesso scolastico, in un'area di proprietà comunale. Noi abbiamo realizzato negli anni 90 questo edificio scolastico che anche dal punto di vista sia strutturale che dal punto di vista della concezione è un edificio moderno, è stato negli anni 90, devo dirlo, quando io facevo il sindaco abbiamo ottenuto questo finanziamento di più di 4 miliardi, abbiamo realizzato questa scuola con annessa palestra, adesso realizzeremo in un terreno che era rimasto inutilizzato il campo di calcetta a servizio anche dei ragazzi che frequentano la nostra scuola e anche del pubblico, stante che vi è una norma nazionale, le leggi nazionali dicono che le strutture scolastiche devono essere utilizzate anche dalla comunità purché non conflingono con l'attività scolastica. Un'ultima domanda, Assessore, visto che siamo in piazza Arena del Sole, qui c'è sempre stato installato il tendone, adesso lo avete smontato, che fine ha fatto, che fine farà, avrà un'altra ubicazione? Guardi, per quanto riguarda il tendone è stato installato ma è stato veramente irrisoriamente utilizzato perché, non so, quella scelta comunque è stata fatta e non è da sempre che è stato installato, solamente da alcuni anni prima di questa amministrazione e ovviamente rispetto all'inutilità dell'utilizzo di questo tendone abbiamo preferito toglierlo perché era un pugno nell'occhio, ammazzava la piazza come l'ha ammazzata, noi cercheremo di riqualificarla, abbiamo iniziato a riqualificarla perché se ne sia fatto un uso corretto e giusto in ragione dei fini che la piazza deve avere e ovviamente il tendone sarà utilizzato più proficuamente a servizio della comunità. L'amministrazione ha già delle idee, comunque le stesse saranno concretizzate allorché le procedure siano tutte messe a posto per poter partire.